...e un'atleta solitaria in comando, a un minuto in gruppo dei migliori con Nibali e Quintana come immediati seguitori. ...e un'atleta solitaria in comando. Zaccari in bozzo vivo di Quintana... ...e un 50 metri. Bene Primo? Sì Puoi vivere dopo? Siamo insieme. In temi, in temi. In temi, in temi. In temi dopo malerodo. Ok, ok, ok. Ciao. 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 Ciao.